Quest'anno presentiamo un nuovissimo prodotto qui in Fiera, si tratta del prodotto FinProject Forest, è proprio questo Forest che è la novità, la novità sta nel materiale che stiamo usando per fare la parte interna del serramento, è un materiale che viene tutto dal riciclo, stiamo usando qui PVC riciclato e nello stesso momento anche bucce di riso, cioè tutti i materiali di scarto che li stiamo rimettendo in produzione per creare dei nuovi prodotti. Qui abbiamo questa finestra con questa superficie interna in questo materiale, molto resistente agente atmosferici, ma allo stesso momento anche molto caldo come prodotto, molto isolante e questa è una delle novità che presentiamo in questa fiera qua, è disponibile in sei colori e sarà sul mercato a partire da giugno di quest'anno.